Voi vi siete affidati alla polizia postale, chi è che vi ha accolto qui nell'ufficio di Arezzo? A noi ci ha accolto il dottor Walter Arciprete che è stato una persona squisitissima, è stato molto molto gentile e disponibile e da buon padre di famiglia, un po' mi commuove sta cosa, ci ha accolto ed è stato empatico e quindi voglio ringraziare lui e ovviamente la magistratura che credo faccia il suo corso. Mariano Scognamiglio, ristoratore, parla delle offese omofobe ricevute nelle ultime ore dopo la messa in onda della puntata retina a quattro ristoranti, il format televisivo di Sky condotto dallo chef Alessandro Borghese. Il bacio tra Mariano e il suo compagno, insieme gestiscono il ristorante, ha scatenato commenti, offese e persino messaggi, telefonate. Io non so tu chi sei, ma lo scopriremo, perché bisogna avere coraggio nella vita, ok mi hai detto che sono f***a, che sono quello che sono, ok? Ti dico se sei uomo veramente, ok chiedi scusa, fatti avanti, dici ok ho sbagliato, ho fatto una gran cavolata, chiedi scusa a tutti quanti, ma non a me in prima persona, ma a tutto il mondo gay, che c'è gente che ne soffre di questa cosa e non è giusto che sia così, allora dimostri di essere il grande uomo quale sei. Tante le attestazioni di stima e di solidarietà nei confronti di Mariano a prendere posizione, per prima è stata l'associazione Chimera Arcobaleno ad Arezzo, ma poi sono arrivate da Milano, da Bologna e da tutta Italia. Ho avuto veramente tanta solidarietà ad Arezzo, mi dispiace che le istituzioni, magari il sindaco, non il vice sindaco, il Gamurrini, che è una persona rispettabile, tutti rispettabili per carità, almeno una telefonata per dire guarda Mariano ti siamo vicino, mi hanno chiamato da tutta Italia, tutta Italia, assessori di Bologna, mi hanno chiamato veramente da tutto il mondo, veramente, credetemi, anche dall'estero, mi hanno chiamato perfino dall'America, cioè voglio dire più di questo, perché hanno capito che cosa stava succedendo e mi aspettavo che un'istituzione locale stigmatizzasse questo comportamento. Mi auguro, ma c'è sempre tempo per rimediare per tutti. Il tema della puntata era la cucina medievale, ma evidentemente qualcuno nel medioevo pensa ancora di viverci. Devo dire la verità, avevamo detto di non farlo, perché pensavamo che potesse succedere qualcosa, perché insomma si respira quest'aria un poco solidale nei confronti della categoria, in generale non solo ad Arezzo ma in tutta Italia e in tutto il mondo credo anche. Non ci aspettavamo magari queste telefonate da questa gente, per carità, perché si spera sempre che la gente pensi in maniera, con un occhio più avanti, senza magari fermarsi veramente, non al medioevo ma a un periodo anche più lontano. Il bacio, insomma, anzi è stato credo uno dei momenti più carini e più teneri della trasmissione, però a dimenticarsi l'acqua, ma come si fa il vino? Allora, premesso che io sono ancora sotto contratto, quindi tante cose non le posso dire, non le posso commentare, sicuramente c'è stato... Ragazzi, è una trasmissione, è un gioco, c'erano 20 persone della troupe che ti arrivano, sovvertono un po' tutto, c'è l'emozione di partecipare, la voglia di far bene, e il fatto che comunque ti hanno scelto. Noi abbiamo fatto una serie di provini che voi non vi immaginate, quindi ci siamo dimenticati le etichette, ma perché erano bicchieri messi di scena, io pensavo che fosse soltanto un tavolo da apparecchiare, non tutti quanti, quindi abbiamo comprato questi bicchieri e l'ultimo lavati, nella lavastrovi, non si è staccata questa etichetta, piazzati là, sono stati spostati i tavoli per questioni di luci, hanno preso i bicchieri e l'etichetta, eh raga, poteva essere una gag, cioè... No, volevo citare un commento di un nostro, diciamo, fans, preso sui commenti di Facebook, dove dice, voleva nel Medioevo, potevano andare al pozzo a prendersi l'acqua.